da quello che vedo è qua, vinciamo state un poco male, vi fanno il servizio qua stiamo proprio a posto, stravinciamo chi fa il servizio che lo fanno? a lui? scusate, ma perché quando vinciamo vinciamo e quando mi fanno subito lo fanno solo a me? ragione, questa è la legge e che legge? ragione, ragione